Centro Storico tra Storia e Futuro, un progetto strategico per chi vorrà investire. È il titolo del convegno organizzato dal Partito Democratico a Giulianova allo scopo di fornire una serie di contributi programmatici per lo sviluppo della città. Un'iniziativa che rientra in un più ampio ciclo di incontri che si svolgeranno nelle prossime settimane nella località giuliese. Diamo il via di una serie di eventi che metteranno in luce una serie di temi che sono importanti per la città. Vogliamo fare un focus a partire da questa sera e per le prossime settimane, i prossimi mesi su tante tematiche che interessano i cittadini. Iniziamo oggi con il tema del Centro Storico pensando al suo rilancio e a quelle che possono essere una serie di opportunità per rivitalizzare il meraviglioso Centro Storico di Giulianova e cercando di porre l'accento su tutte quelle che possono essere le problematiche legate a un po' di spopolamento, alle attività commerciali che sono un po' in difficoltà. Ci saranno nuove iniziative nelle prossime settimane, da qui fino alle elezioni comunali accenderemo le luci su problemi che riguardano appunto il turismo su altre possibilità che appunto il Centro Storico offre per un turismo diverso da quello balneare classico e parleremo di lavoro, parleremo di sociale, quindi affronteremo tutta una serie di tematiche in eventi differenti o simili a questo che potranno così aiutarci a entrare anche in contatto con la cittadinanza, a raccogliere quelle che sono le loro istanze, le loro esigenze.